Niente processione a mare, né consegna in porto delle chiavi ai santi patroni, cancellati i fuochi d'artificio, le luminarie e le bancarelle. San Lorenzo e San Teodoro saranno celebrati a Brindisi quest'anno senza i colori e le tradizioni che si tramandano da generazioni per le ristrettezze imposte dal Covid e che hanno ridimensionato i programmi di tutte le feste patronali. Sarà una celebrazione più intima che però avrà una sua peculiarità, le reliquie dei santi tradizionalmente esposte durante la festa nel Duomo saranno portate in ciascuna delle 17 parrocchie della città dove si svolgeranno funzioni religiose e incontri già a partire da sabato 22 agosto quando le reliquie saranno esposte nella parrocchia di San Vito Martire al Rione Commenda. Il 3 settembre arriveranno in Cattedrale dove resteranno sino al 7, data di conclusione delle celebrazioni. Sabato 5 settembre alle 20.30 si svolgerà il solenne pontificale celebrato dall'Arcivescovo Domenico Caliandro con la consegna delle chiavi della città ai santi patroni da parte del Sindaco che sarà trasmesso in diretta televisiva su Antenna Sud. Nel luogo tradizionale all'incrocio dei corsi verrà allestito il tosello per l'esposizione delle statue raffiguranti santi patroni con alcune installazioni luminose in particolare in Piazza Duomo. Il programma è stato presentato nella Sala Mario Marino Guadalupi di Palazzo di Città dal Sindaco Riccardo Rossi e da Don Mimmo Roma, parroco della Cattedrale. È prevista anche una versione ridimensionata del Palio dell'Arca con la gara degli schifarieddi. Il tutto nella speranza che il prossimo anno la festa patronale possa tornare a colorare le vie e i cieli della città. Grazie a tutti.